Ecco Travaglio, mentre l'Europa discute sui migliori strumenti da adottare per fronteggiare l'emergenza economica, in Italia il mondo dell'impresa lancia tutti i giorni l'allarme e chiede di riaprire già subito dopo Pasqua alcune attività. È ragionevole oppure è irresponsabile? Dopo Pasqua penso che sarebbe una follia, visti i dati che oggi registriamo. Ci siamo purtroppo a tal punto mitridatizzati a calcolare come normale il dato di 600-700 morti nuovi al giorno, addirittura che leggiamo su qualche giornale espressioni direi opinabili sul fatto che va tutto bene, va tutto meglio, siamo al bel tempo, stiamo contando 500-600 morti al giorno. Io non so veramente come si possa in una situazione del genere anche soltanto ipotizzare una riapertura che ovviamente creerebbe più contagi e più morti. Se fosse vero che alla fine del mese, come calcola qualcuno, ma sulla base di algoritmi, potremmo arrivare a pochissimi morti al giorno e 100 nuovi casi di contagio al giorno, a quel punto si potrebbe cominciare a ipotizzare una data. Ma io mi domando se qualcuno si è impazzito. Tra l'altro, proprio oggi abbiamo pubblicato la notizia che soltanto nella Bergamasca e nella Bresciana, cioè in due fra le province che hanno il più alto tasso di mortalità, non solo in Italia, ma nel mondo, ci sono 7000, diconsi 7000 fabbriche e aziende che continuano a lavorare in deroga perché fanno l'autocertificazione sullo stato di necessità le prefetture che avendo pochissimi addetti non possono certamente andare a controllare 7000 fabbriche. 7000 fabbriche, tu immagina quanta gente movimentano. Siamo sicuri che in quelle fabbriche si lavora a distanza di sicurezza? Ci vorrebbero dei controlli ma non ci sono gli strumenti per farli. E quindi, voglio dire, io penso che si stia veramente scherzando col fuoco in una fase delicata come questa. Sebastiano Barizzoni, sei...